Ci troviamo al comune di Capodorlando dove pochi minuti fa il sindaco Franco Ingrillì ha nominato la nuova giunta, sono state confermate le nostre indiscrezioni. Maria Elena se le vuoi svelare ai telespettatori? Sì, infatti come avevamo anticipato entrano in giunta Fabio Colombo ed Edda Triscari che secondo le ultime indiscrezioni ricopriranno rispettivamente le cariche, le deleghe a sport e turismo, mentre Edda Triscari avrà pari opportunità ma anche culto e servizi sociali, mentre rimangono in giunta Aldo Sergio Leggio che avrà anche l'incarico di vice sindaco e poi Andrea Paterniti Isabella che è l'unico assessore nominato all'inizio di questo mandato e che è confermato almeno per il momento fino alla fine dei cinque anni. Andiamo a sentire le interviste al sindaco Franco Ingrillì e al nuovo assessore Fabio Colombo. Cambia il ruolo ma certamente non cambia l'impegno, la passione, la determinazione, la voglia di raggiungere obiettivi per Capo d'Orlando e per tutti gli orlandini. Quindi con questi presupposti ho accettato di buon grado perché sono certo che con una buona programmazione possiamo raggiungere buoni risultati. Come mai hai accettato questo incarico a un anno dalla fine del quinquennio in Grilli? Guardi, io sarò anche fatto male ma sono uno che ci mette la faccia sempre ed è proprio davanti ai momenti di difficoltà che mi piace commettere su me stesso e soprattutto visto che ho accettato sempre di far parte in prima persona mettendoci sempre la faccia non potevo scappare davanti alle mie responsabilità e quindi sono qui ancora una volta a dimostrare passione e amore per la mia città. È più un onore o un onere? Guardi, entrambe le cose. Ovviamente è un grandissimo onore. Io faccio politica per passione e quindi per me è veramente una ragione di vita. Ovviamente il traguardo e la strada che ci aspetta per arrivare al traguardo è molto tortuosa ma come detto con i presupposti della passione, della grinta, della voglia e della determinazione possiamo raggiungere buoni risultati.